E' di nuovo la location d'eccezione della Certosa di San Giavolo, appunto la location di questa quinta edizione del Jets in Campion. E' di nuovo la location d'eccezione della Certosa di San Giavolo, appunto la location di questa quinta edizione del Jets in Campion. E' con me lo fece però perché consegniamo questo prego, perché stasera penso vedremo una delle serali più belle del Jets in Campion. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you.